Disgraziatamente quello di Emanuele non è stato l'unico incidente stradale ad avere insanguinato le strade marsalesi nelle ultime ore. Nella notte infatti, lungo lo scorrimento veloce, un Audi A4 è uscita fuoristrada, cappottandosi fino a ridursi in un ammasso di lamiere. Al suo interno il 32enne Livio Angileri, che per il forte impatto è stato sbalzato fuori dell'abitacolo dell'automobile. Soccorso immediatamente, l'uomo è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Marsala per poi essere trasferito in elisoccorso presso un osocomio palermitano. Livio Angileri ha riportato diverse fratture in tutto il corpo, di cui una gravissima al cranio. Si sta indagando ora sulla dinamica dell'incidente, anche se la causa sembra essere stata all'alta velocità.